Nome. Massimiliano. Cognome? Dell'Anna. Ruolo all'internozietto di giovanile? Sono il dirigente accompagnatore dell'Under 15 e dell'Under 17. Gli obiettivi quali sono per un accompagnatore? Gli obiettivi sono quello di crescere insieme ai ragazzi, quello di cercare di imparare quanto più è possibile da quello che loro fanno. Sono ovviamente in questa attività meravigliosa. Naturalmente tifoso del Lecce, ma quanto è bello lavorare per il Lecce? Io sono un grandissimo tifoso del Lecce e lavorare per il Lecce è un grandissimo onore, anche perché è una crescita veramente importante e straordinaria, perché c'è un gruppo meraviglioso formato da un grande staff, un grande direttore e dei ragazzi meravigliosi, quindi per me è solamente un onore cercare di stare a fianco all'ora. Grazie a tutti.